Ricomporrò la frattura. Ci pensiamo noi. Non è vero. C'è il limite a 6 km orari a me. Ma ti rendi conto quando sta andando via? Cioè, non è la velocità solida. Che cazzo sta succedendo qua? Tempo scorre per tutti. Scorre nella stessa direzione. Ma come scorre? Quella è una storia diversa. Perché si può rallentare. Quello sì. E vedremo come nel caso di Buchi Neri può arrivare anche a momenti in cui sembra completamente fermo. Però dipende per chi. Ok? Quindi cosa succederebbe se potessimo realmente fermare il tempo? Niente di bello. Niente morte. Distruzione. Buchi neri e la fine termica dell'interno universo. Basta. Fermati. Vai, leggi le missioni. E dorme per sempre lui, no? Questo è l'obiettivo fallire, il millandatore. Peccato. Aiuto a curare i rifugiati a scalica. L'abbiamo fatto. Abbiamo risolto diverse missioni semplicemente non facendole. Ah, che è lei! Oh no, oh no, oh no, oh no. Ah, questo dove è arrivato? Balivo di merda. È disarmato, vai. Eh sì, perché l'abbiamo menato. Il balivo non ha armi perché gliel'avevano probabilmente già tolte. Prontigli pure i vestiti così. Tutti i balivi di Kingdom Come devono essere nudi. Oh, lascia sto cavallo. Oh! Hanno ucciso Pebble. Hanno ucciso Pebble, brutti i bastardi. Ahahahah. Surrender. Ma che cazzo? È la prima volta che ci attaccavo. Ma è tornato. Ehi, torna Pebble. Ma che cazzo sta ormai? Pebble. Ah! Sono cagato sottissimo. Continua a dire. Eh, che cazzo? Abbiamo un po' di problemi adesso qua, eh. Oh, abbiamo completato l'obiettivo. Gli abbiamo dato il denaro del congiatore. Offre un quarto. Offre una mangiata di croce. No, offre la metà che gli spetta. Sennò questi qua ci rompono il cazzo. Oh, gli abbiamo dato 70 solo per parlare. Eravamo amici. Ma vaffanculo dagli una mangiata di croce, una stupida puttana. No, la metà, no. Un quarto. Dai, ma perché, Vale? Ma perché, Vale? No! Sei privo di sensi cosa? Ma no! Ma cazzo dice questo? Che cazzo sta succedendo? Ma non cadi quella grande puttana, no. Ma per... Oh, sì, c'è fermo. Ma che cosa andiamo? Non sta succedendo? Ha pure sbloccato e scatenato. Ma guarda che sono almeno due minuti e mezzo che non facciamo un cazzo di niente, eh. Quindi adesso siamo liberi e felici. Bene. Ma si è spezzato le gambe. Ma era morto! Madonna, che meraviglia, ragazzi. Ma che spettacolo. Ma era morto. Cioè, questo è un gran gioco. E ancora il gioco riesce a sorprenderci. Spezzando al contrario le gambe a un cinghiale e mettendolo morto in piedi. Ma si sta inculando un pezzo di legno o... Ma perché sta scappando? Domani sera vedrai una luce nella chiesa di Sasao. La porta sarà aperta. Entra e inizia a recitare il Padre Nostro. Goodbye. Ma quindi? Tipo Batman? Addio. Ma perché? Ti giuro io non ho capito. Beh, ragazzi, io direi che tutto è bene, quel che finisce è bene. Ciao.